Una difesa un tre con un doppio che ha funzionato perché lui è stato limitato e abbiamo pagato forse con qualche tiro da fuori, forse con qualche utilizzazione sulle rotazioni, forse con qualche rimbalzo, però l'idea visto la nostra... ok, negli accoglienti con loro andavamo andavamo sotto ovunque nel campo, sennò non avrebbero 20 volte il nostro budget, no, quindi non a dire più o meno, però ecco la scelta che avevamo fatto era quella di non subire vicino all'area, di provare di tenere, di resistere lì dove eravamo a mio avviso nettamente sotto taglia, sottodimensionati, sotto talento, sotto pubblico, quindi la scelta è stata quella, io credo aver pagato perché comunque San Marco ci ha fatto male, perché il giornatore tutte le volte è andato nell'1 contro 1 è arrivato al ferro, però abbiamo resistito ai ribalti, insomma credo che la partita alla fine si sia decisa su qualche possesso, su una decisione arbitrale piuttosto che su un'azione offensiva, insomma questo per noi credo sia un grande risultato, ecco al di là che la sconfitta e la vittoria è data da Tony Jinx, ma insomma dobbiamo essere oggettivi, io credo che la scelta tattica è stata quella e quindi lui ha giocato pochi 1 contro 1, pochi palloni giocati, grazie.